Ti sei mai chiesto cosa succederebbe se un tuo cliente decidesse di farti causa? Sei pronto a scoprire i segreti per difendere il tuo business da clienti disonesti attaccabrighe? Tranquillo, perché oggi svederemo le strategie che ti faranno dormire finalmente sonni tranquilli. Sono Reste Maria Petrillo, l'avvocato specializzato in consulenza legale e contrattuale per imprenditori e partite IVA che lavorano e operano nel mondo digitale. E oggi affronteremo una tematica cruciale, come proteggere il tuo prezioso business digitale da clienti disonesti e litigiosi. Nel mondo frenetico degli affari online, incrociare la strada di clienti che mettono in pericolo la tua azienda è un rischio che nessun imprenditore può ignorare. Ma lascia che ti racconti un aneddoto che ti farà capire quanto sia fondamentale la tua protezione. Conosco un imprenditore del settore digital che aveva costruito una solida base di clienti fedeli. Tuttavia, uno di loro ha iniziato a diffondere notizie false sul suo prodotto, minacciando di rovinare la sua reputazione e il suo business. Con la giusta strategia legale abbiamo sventato la minaccia e protetto il suo marchio. Quel senso di impotenza e frustrazione che ha provato lo abbiamo trasformato in fiducia e sicurezza. Un altro caso riguardo un esperto sviluppatore di software. Dopo aver rilasciato un'applicazione di successo, si è trovato ad affrontare un cliente che minacciava azioni legali ingiuste, tentando di estorcere denaro. Grazie alla mia consulenza, l'imprenditore ha difeso la sua applicazione e ha messo fine alla controversia. Il sollievo che ha provato nel vedere la sua creatura al sicuro inestimabile. Infine, parliamo di un rinomato consulente digitale. Ha subito un attacco online da parte di un cliente che lo accusava di fornire servizi insufficienti. Con la mia assistenza legale, l'imprenditore è riuscito a dimostrare la sua professionalità, ottenendo giustizia e ripristinando la sua reputazione. La gratitudine dei suoi clienti fedeli che sono rimasti al suo fianco, una conferma del valore del suo lavoro. Se anche tu vuoi dormire davvero, suoni tranquilli e proteggere finalmente il tuo business digitale da situazioni simili, non aspettare. Clicca sul link nella descrizione qui sotto e prenota subito una consulenza gratuita con me. Insieme creeremo una barriera legale inespugnabile per il tuo successo digitale. Non lasciare che i tuoi sogni e il tuo duro lavoro siano minacciati. La protezione del tuo business digitale è la chiave per la tua crescita e il tuo successo duraturo. Non permettere a clienti disonesti e attaccabrighe di mettere a rischio tutto ciò per cui hai lavorato così duramente. Contattami ora e prendi il controllo del tuo futuro. Ricorda, il tuo business merita la massima protezione. Io sono il mentore legale dei più noti marketers e imprenditori digitali e sono stato l'avvocato dietro le quinte dei più grossi lanci digitali italiani. Grazie per avermi seguito. Se il video ti è piaciuto metti mi piace e condividilo con i tuoi amici imprenditori. Iscriviti al mio canale, alla mia pagina per non perderti i prossimi contenuti esclusivi sulla protezione del business digitale. Ci vediamo al prossimo video. Buon business!